Dall'1 al 15 agosto al castello Angioino Aragonese di Agropoli, la mostra del maestro Luciano Cirillo, l'artista nativo di Agropoli, ritorna nella sua città con una personale che ripercorre tutta la propria carriera. Sono riuscito a fare questa personale che ci tenevo tanto da tanti anni, quindi sono riuscito anche per la squisita sensibilità dell'amministrazione che mi ha concesso questo spazio. Lei tra l'altro è anche uno scultore e alcune delle sue opere sono presenti nelle più importanti città italiane. Qui ci sono delle stampe nella passeggiata, nel corridoio all'esterno, dove documentano alcune sculture. Ne ho fatte una, l'Uoma Centro dell'Universo, lì sul Rolap, poi a Peschiera Borromeo, un monumento di 3,30 metri in bronzo, Sandinelle del Mattino, che è venuto a Cologno-Monsesa a inaugurarlo il Cardinal Martini. Tra l'altro il suo impegno artistico è proprio un impegno che è incentrato sull'uomo ed è incentrato sulla dimensione che l'uomo ha nell'universo. Il dialogo con l'uomo è lo spazio. Lo spazio che diventa, si può dire, personaggio. Questa dimensione, questo spazio, l'uomo, si è sbarrito attraverso questi anni con la perdita dei valori che si sono susseguiti. Già dagli anni Sessanta non esiste neanche sul sussidiario l'educazione civica, che adesso mi sembra che vogliono rimetterla. Questi valori bisogna ricoperarli, valori perduti, immagazzinarli per investirli in un futuro possibile. L'arte può salvare il mondo. Qual è il ruolo dell'artista e dell'arte nella nostra società? Può salvare il mondo. È il rapporto del dialogo. È come la musica. Per esempio, la musica rock unisce tutti questi giovani, solitari, tristi, li raggruppa tutti e va la musica, è come un fiume che scende e porta al mare. Tutti in unico vertice. Immaginiamo una sinfonia che stradipa questo fiume e queste onde, diciamo, musicale, cerca di colpire, aggrapparsi alla mente dell'uomo e ognuno fa una lettura diversa in base alla nota musicale. Ad esempio, io porto, mettiamo un brano musicale, io si voglio portare l'esempio di Giambattista Vico, dove dice, non da contestarlo, è un genio, dove il bambino avverte senza subire, poi l'adolescente avverte con animo commosso. In questo caso, potrei contardirle sul bambino dove subisce senza avvertire. Noi mettiamo un complesso musicale, della gente sta ferma, ascolta la musica e il bambino incomincia a gesticolare. E' la musica che lo avverte, lo sveglia, sono le note musicali. Ecco perché poi, allora, subisce l'influenza musicale. Allora non resta che invitare cittadini e turisti a visitare la mostra, ricordiamolo, dall'1 al 15 agosto. Esatto, quindi è un'esposizione didattica, allegorico-didattico, si potrebbe dire di insegnamento e allegorico di contenuti altamente morali, proprio come parlavo precedentemente al recupero dei valori.